Dal secondo libro di Samuele In quei giorni, Davide tornò dalla strage degli Amaliciti e rimase a Siklag due giorni. Al terzo giorno, ecco arrivare un uomo dal campo di Saul, con la vestia stracciata e col capo cosparso di polvere. Appena giunto presso Davide, cadde a terra e si prostrò. Davide gli chiese, da dove vieni? Rispose, sono fuggito dal campo di Israele. Davide gli domandò, come sono andate le cose? Su, dammi notizie. Rispose, è successo che il popolo è fuggito nel corso della battaglia. Molti del popolo sono caduti e sono morti. Anche Saul e suo figlio Gionata sono morti. Davide afferrò le sue vesti e le stracciò. Così fecero tutti gli uomini che erano con lui. Essi alzarono lamenti, piansero e digiunarono fino a sera per Saul e Gionata, suo figlio, per il popolo del Signore e per la casa di Israele, perché erano caduti di spada. Allora Davide intonò questo lamento su Saul e su suo figlio Gionata. Il tuo vanto, Israele, sulle alture giace trafitto, come sono caduti gli eroi. O Saul e Gionata, amabili e gentili, né in vita né in morte furono divisi. Erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni. Figlio di Israele, piangete su Saul, che con delizia vi rivestiva di porpora, che appendeva gioielli d'oro sulle vostre vesti. Come sono caduti gli eroi, in mezzo alla battaglia. Gionata, sulle tue alture trafitto. Una grande pena ho per te, fratello mio. Gionata, tu mi eri molto caro. La tua amicizia era per me preziosa, più che amore di donna. Come sono caduti gli eroi, sono perite le armi. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge. Seduto sui cherubini, risplendi davanti a Efraim, vieni a Mino, e Manasse. Risveglia la tua potenza, e vieni a salvarci. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime. Ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatti motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù entrò in una casa, e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano, infatti, è fuori di sé. E' fuori di sé. E' fuori di sé. E' fuori di sé. Grazie a tutti.